serve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi partita decisiva ragazzi siamo qui per cittadella benevento un unico risultato la vittoria per questi colori ragazzi per questi in cui noi crediamo lottiamo e viviamo ogni giorno nella nostra città partita tostissima il mister a quanto pare vorrà cambiare qualcosina forse con la punta dal primo minuto quindi penso schiererà un 4-3-3 dall'inizio speriamo di vedere un buon fraseggio un buon gioco palla per far sì che facciano segnare l'attaccante come ben sapete simi lagumina passino a quanto pare sono stati messi fuori dal progetto però a noi questo non deve interessare l'unica cosa che conta oggi sono i tre punti perché i tre punti possono riaprire tutto e possono far sì che la lotta contro il modena in casa sia una bolgia al cirovigorito però la prima cosa che deve accadere è la vittoria quest'oggi soprattutto dopo le partite dopo le parole dell'allenatore della cittadella io fossi un giocatore del benevento gliele farei rimangiare in quanto ha parlato di loro dicendo non ha paura del benevento giustamente anche per i risultati non siamo nulla di che quindi un giocatore di intessa dovrebbe dire però faccio vedere io non sono nulla di che detto ciò incrociamo le dita stiamo a vedere e ci vediamo a fine partita così qua ragazzi finita è finita ok per la vergogna di questi giocatori che prendono l'ira di c'è siete la vergogna di benevento ci avete disonorato in ogni dove anche quest'oggi una partita fondamentale una prestazione del genere ma di che stiamo parlando raga il secondo gol è imbarazzante come lo prendiamo e ha palesato la voglia di questi giocatori quest'anno che già l'avevamo vista però un minimo di speranza dopo la partita di parma con il parma ce l'avevamo un po tutti era difficilissimo e lo sapevamo ma vedere una prestazione del genere andare a perdere la 3 a 1 raga ma di che stiamo parlando ma ci siamo resi conto il 3 a 1 con il 2 a 1 come l'abbiamo preso ragazzi da calcio d'angolo passaggino palla in mezzo in mezzo a due difensori difesa schierata e prendiamo gol ma di che stiamo parlando e non dobbiamo dire che adesso se ne devono andare da benevento contro il modena dobbiamo andare tutti allo stadio a far sentire il nostro dissenso non devono giocare per 90 minuti con i fischi la e borda tutto ragazzi tutto perché è impossibile siamo in serie c per la vergogna di questa gente che piglia l'ira di soldi e noi che ci svegliamo la mattina facciamo i sacrifici ci mettiamo i soldi da parte per farci un abbonamento anche di 80 euro dobbiamo essere disonorati in questa maniera e dobbiamo anche approdirla ma di che cosa raga ma di che cosa oggi hanno palestato che sono stati loro a volerci affossare schiattarella doveva fare il cambiamento solo le pagliacciate a lamentarsi in mezzo al campo raga a litigare con gli avversari invece di mettere la palla in rete arriviamo avanti la porta invece di passare il compagno in mezzo da solo dobbiamo tirare per fare i collo dei fenomeni ma di che stiamo parlando è stato uno schifo fino alla fine quest'anno e voglio vedere oggi come se ne uscirà perché contro il modena raga deve essere una boggia di fischi dal primo al novantesimo e non dobbiamo dargli l'alibi di non entrare in campo e scamparsela così dobbiamo far sentire tutto il dissenso del popolo beneventano raga e fargli capire come ci hanno disonorato e mortificato i nostri colori e non è il fatto di andare in serie c per come ci siamo andati con la squadra con il quale siamo andati ragazzi il quinto ingaggio di serie b siamo ultimi in classifica e siamo andati in serie c disonorati in ogni dove anche in casa e più a varie volte sono permessi pure di ridere quando si veniva contestati ma di che parliamo ma di che stiamo parlando comunque è finito siamo messi l'animo in pace siamo ufficialmente in serie c ed ora si vedranno ovviamente continuate a ti fare sempre per il napoli voi a benevento e adesso siete tutti contenti e l'anno prossimo andremo di nuovo a mille allo stadio vabbè se ci andiamo ragazzi perché muove apriamo tutti i vari scenari staremo a vedere già si ragionava la regina il brescia dobbiamo guardare ma che cazzo dobbiamo guardare ma che dobbiamo guardare che arriviamo ultimi in classifica ma veramente facemmi i tifosi occasionali a benevento si è una piazza mediocre questo è il problema che i veri sono quelli che sono andati là che sostengono e si possono permettere di contestare lo stadio di fiscali fare tutto quello che vogliono ok questo è ragazzi siamo ufficialmente in serie c quindi ditemi la vostra nei commenti confrontiamoci un po tra di noi ragazzi e nulla questo è lo scempio per l'ennesimo scempio visto quest'oggi applaudiamoli facciamoci le foto per dentro benevento perché questo siamo vabbasone al di là di tutto sempre solo per la maglia con la pioggia e con il vento sempre forza benevento i veri tifosi di fare una maglia non si quattro bagliacci